La rassegna I Grandi Temi torna anche quest'anno come tutte le estati qui a Bocca di Magra, una rassegna attesa ormai ogni anno. Sono contenta, questa è l'ottava volta, una volta che io trovo importante prima di tutto per il tema, la potenza delle emozioni, noi viviamo di emozioni. Poi per le persone che ci sono quest'anno c'è questa novità, oltre ai libri, oltre alla musica in tema che intervalla la presentazione del libro, ci sono anche dei personaggi importanti. Per esempio Cristiano Malgioglio accompagnerà Aldo Dallavecchia che ha scritto Piccola mappa della nostalgia, Geppi Cucciari accompagnerà Davide Steccanella che ha scritto questo libro bellissimo sulle donne rivoluzionarie. Poi c'è Evelina Flachi che è un personaggio televisivo che tutti conoscono e che ci insegnerà questa dieta in cinque mosse fantastica e c'è appunto Gianluigi Paragone che è un personaggio che tutti conosciamo e che scoprirete in una veste inedita oltre che di autore. Ecco l'anno scorso si è parlato delle grandi inchieste, l'hanno ancora prima le provocazioni, come nasce l'idea invece di questo tema in particolare? Questo non lo so, questo non lo so, sono io che sono istintiva, non so, sento il bisogno di qualcosa, mi viene, lavoro attorno a quell'idea e cerco dei libri che mi portino a dare alle persone la stessa impressione che ho io della vita. Il Comune d'Amelia ancora una volta quest'anno ha l'onore di ospitare un'importante rassegna. Sì, siamo all'ottava edizione della rassegna di libraria dell'Avvocato Bernardini De Pace, devo dire che quest'anno ha sapientemente rinnovare il format della rassegna, ha introdotto alcuni personaggi televisivi che affiancheranno gli ospiti. Devo dire che anche quest'anno dobbiamo ringraziare Carrefour che è lo sponsor principale di questa manifestazione e che all'interno dell'area della Villa Romana, che è la cornice dove la manifestazione avrà luogo dal 6 al 9 luglio, offrirà alcuni suoi prodotti con uno stand apposito. Noi siamo felici anche quest'anno di essere presenti a questo evento, saremo presenti con un desk dove degusteremo dei prodotti Terre d'Italia che fanno parte di tutte le eccellenze italiane di cui disponiamo. Sono fatti da fornitori e produttori locali che siamo felici di dare questo spazio e poter offrire alle persone tutti questi prodotti. I segni sono allietati da me, dagli autori, dalla musica.